Buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento con Spazio Interviste. Oggi riviveremo la storia del cinema partendo proprio dalla Calabria grazie a Alessandro Nucci regista e Fabrizio Nucci produttore. Ciao Alessandro, ciao Fabrizio, benvenuti. Ciao Francesca, buon pomeriggio, grazie. Allora Fabrizio e Alessandro due molti giovanissimi che vogliono raccontare una storia importante per la Calabria ma che non tutti conoscono, infatti io sono rimasta davvero entusiasta di leggere come appunto Tony Gaudi, un personaggio di spessore che ha fatto davvero la storia nel cinema e nella Calabria, si è così poco discusso. Io infatti Alessandro volevo chiederti, Tony Gaudi, chi è? Perché è così importante per la Calabria? Perché si è scelto di prendere lui come personaggio per un vero e proprio documentario, l'Oscar dimenticato appunto. Allora intanto grazie mille per i giovanissimi. Allora Francesca, io credo che appunto Tony Gaudi sia un personaggio da raccontare perché in qualche modo è una figura che ha aleggiato per tanti anni, soprattutto sulla città di Cosenza, senza che nessuno se ne accorgesse. C'è un edificio su Corso Telesio, che probabilmente quasi tutti a Cosenza hanno notato, dove è riportata una scritta in alto, fotogaudio. Mai nessuno si è chiesto più di tanto chi fossero questi Gaudio, cosa fosse questo studio fotografico. Noi abbiamo approfondito circa tre anni fa questa materia sulla quale erano comparsi qualche articolo, era comparsa qualche articolo online. La Cineteca della Calabria aveva organizzato una rassegna a tempo fa, ma poi tutto era accaduto nel dimenticatoio. Noi siamo ripartiti da queste ricerche e abbiamo scoperto tutto un mondo. Abbiamo scoperto che da questo piccolo studio fotografico a Cosenza sono partiti anzi due fratelli, Tony e Antonio Gaetaneo, poi è diventato Tony in America, e Eugenio, poi è diventato Eugene. Questi due fratelli emigrarono nel 1906 e prima a New York, poi successivamente si trasferirono a Los Angeles e diedero vita a una vera e propria rivoluzione nel mondo della fotografia cinematografica. Infatti da fotografi divendero direttori della fotografia nel cinema, poi Eugene morì abbastanza giovane purtroppo, quindi è stato soprattutto Tony a portare avanti l'arte della famiglia e Tony rivoluzionò lo stile dei film di Hollywood introducendo delle tecniche di illuminazione, uno stile fotografico completamente innovativo e rivoluzionario rispetto a quello fino ad allora utilizzato, divenne uno dei direttori della fotografia più in voga nella Hollywood degli anni 30-40, divenne il preferito di un'attrice importantissima come Betty Davis, e poi nel 1937 vinse questo Oscar per il film Anthony Adversi, avorio nero in italiano, e questo Oscar del 1937 di fatto è il primo Oscar a essere stato vinto da un italiano molto prima dei più noti, De Sica, Fellini, Loren e tutti gli altri che conosciamo bene fino ad arrivare a Benigni e gli altri. Evidenziamo proprio questo, Tony Gaudio è il primo italiano a vincere un Oscar nel 1937, se non erro, ci siamo documentati, però c'è una peculiarità, una particolarità che non tutti sanno, che non so se siano leggende metropolitane o che altro, mi dirai tu, ma che questa statuetta è andata persa, giusto per questo, diciamo, l'Oscar dimenticato? Sì, diciamo che appena iniziamo nel 2020 a lavorare su questo documentario, chiaramente una delle prime domande che ci siamo fatti con Fabrizio è dove si trova l'Oscar? Vorremmo riprenderlo, chiaramente, in un documentario, l'immagine è importante, quindi vorremmo vedere questo Oscar. Ebbene, è stato praticamente impossibile capire all'epoca che Fina avesse fatto questa statuetta, questo anche perché la vita privata di Tony Gaudio è stata abbastanza tormentata, più matrimoni, una famiglia piuttosto frammentata, quindi di fatto le tracce di questa statuetta si sono perse. Quindi una nostra idea è stata anche, ovviamente, oltre a riscoprire la figura di Tony Gaudio e andare sulle tracce della sua carriera, anche provare a capire dove fosse finito questo Oscar fisicamente. E infatti è un bel mistero che si c'è là dietro questa storia, che già di per sé comunque è davvero molto interessante. Quindi infatti abbiamo visto questo ponte tra Calabria e Stati Uniti. Io, Fabrizio, infatti volevo chiederti, a livello proprio di impegno, costruire un documentario, ora adesso saranno partite le riprese, costruire un documentario che ha un ponte così largo, perché comunque Calabria e Stati Uniti, due continenti diversi, com'è? È difficoltoso o è fattibile? Sicuramente non è stato semplice, non è semplice, il lavoro non è ancora concluso, siamo appena rientrati da una sessione di riprese negli Stati Uniti, iniziati i primi di gennaio, in cui abbiamo raccolto il grosso del materiale che poi confliorà nel montaggio del documentario e che racconta tutta la parentesi, che è anche quella più lunga rispetto alla vita di Tony Gaudo, la parentesi americana, quindi dal suo arrivo negli Stati Uniti a New York a Ellis Island, come tanti altri emigrati italiani dell'epoca, parliamo dei primi del Novecento, che attraversavano l'oceano alla ricerca di un futuro alternativo e migliore di quello che lasciavano sulla sponda europea dell'oceano, proseguendo fino a Los Angeles, dove poi è avvenuta la consagrazione con la vincita dell'Oscar del 1937, per concludersi poi a San Francisco, dove si ritirò alla pensione, dove poi effettivamente è morto negli anni 50. Quindi è una storia che parte da Cosenza, parte dalla Calabria, passa anche da Roma e dal Piemonte, perché si presume, come lo dichiarò Tony in diverse interviste rilasciate negli anni 20 e negli anni 30, che egli lavorò prima di emigrare negli Stati Uniti anche per una delle primissime e più importanti società di produzione italiane, l'Ambrosio Film di Torino, e poi per l'appunto il passaggio negli Stati Uniti. Noi abbiamo cercato di riprendere un po' tutta questa lunga avventura, anche a livello chilometrico, che Tony Gaudo ha vissuto all'interno della sua vita, non solo per intercettare le situazioni utili da intervistare e da coinvolgere in tutti questi territori, ma anche un po' per rivivere in prima persona l'emozione anche della diversità tra tutti questi territori, che sicuramente sono anche cambiati negli ultimi cento anni, ma che continuano a mantenere quelle distanze che poi spesso, grazie all'arte, come nel nostro caso del documentario, vengono colmate. Abbiamo impostato un percorso produttivo che è partito proprio dalla Calabria, quindi con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission, di altri partner del territorio, quale ad esempio il Comune di Cosenza, con il quale abbiamo anche condiviso un'altra situazione molto interessante, l'inaugurazione di una targa a Corso Telesio, dedicata proprio a Tony Gaudo sulla palazzina storica che prima citava Alessandro, dove è ancora presente l'insegna del negozio fotografico di famiglia. Sì, anche perché comunque è una figura, come vediamo, una figura che è davvero dimenticata. A parte la targa, ma perché era rimasta da allora, quindi la targa è proprio l'insegna del negozio. Abbiamo pensato, e poi i partner del territorio, tra cui la Calabria Film Commission, alcuni di Cosenza hanno condiviso, la provincia di Cosenza, questa nostra intenzione, quindi da settembre del 2022 è presente anche una targa sulla palazzina appunto di Fotogaudio. Negli Stati Uniti tutta una serie di altri partner, tra cui la Tony Gaudo Foundation, che è una fondazione nata da poco, che è stata creata da parte dei discendenti di Tony e Eugene Gaudo, che appunto si prefigge di anche lei di fare in qualche modo riemergere la memoria e il ricordo di questa figura, ma anche partner appunto sul Piemonte, una coproduzione che si chiama Officina 38, il Museo Nazionale del Cina Meditorino, altri partner sul territorio della Calabria, tra cui anche alcuni partner privati, Carpe Natura Mella Molazza, che è uno sponsor che ci ha anche supportato in questo nostro viaggio negli Stati Uniti. Insomma, vado alle conclusioni. Sicuramente un percorso molto complesso, su cui stiamo lavorando ormai quasi da tre anni, sono due anni e mezzo che lavoriamo a questo progetto, però siamo tornati carichissimi appunto da queste riprese negli Stati Uniti, perché abbiamo avuto la possibilità di intervistare le personalità del cinema molto importanti e che Contiamo possano rappresentare al meglio l'importanza, non solo appunto l'avventura, come dicevo prima, quindi l'interesse che c'è verso questa figura per lo straordinario percorso che ha fatto cavalcando il sogno americano, ma l'importanza reale e concreta che ha avuto per il cinema, per le invenzioni, che ha introdotto sotto un punto di vista tecnico. Per cui il cinema che conosciamo oggi è anche frutto delle invenzioni e delle innovazioni che ha portato come pioniera della fotografia Tony Gaudio. Ecco, infatti proprio su questo io volevo chiedere a te, come all'Alessandro, e andare a riprendere la vita di un così importante artista comunque è una responsabilità, cioè immagino che ci siano proprio dei tratti che avete avuto a cuore, far emergere all'interno del documentario, proprio per rendere la figura di Tony Gaudio una sorta di dignità per ciò che è stato dimenticato appunto, immagino. Allora, diciamo che ci siamo trovati di fronte ad alcuni aspetti un po' complicati. Dal punto di vista artistico c'è un mondo per quanto riguarda appunto la produzione di Tony Gaudio, avendo lavorato in alcuni dei film più importanti degli anni 30-40 appunto con grandissime star, grandissimi registi, non solo il materiale era tanto, ma abbiamo anche avuto la fortuna di trovare delle personalità che già si erano cimentate con il lavoro di Tony Gaudio. Per esempio, una delle nostre interviste è stata Patrick Keating che già una decina di anni fa aveva scritto un libro su questo cambio di stile nella fotografia che è avvenuto negli anni 30-40 e Tony Gaudio era una delle figure il cui lavoro era stato analizzato da Keating. Quindi da questo punto di vista è stato molto facile. Quello che è stato un po' più difficile invece è stato analizzare l'uomo, tra virgolette, come si suol dire, capire qualcosa di più di Tony, cioè chi era Tony Gaudio. Devo dire che per fortuna anche da questo punto di vista abbiamo trovato del materiale, chiaramente molto meno. Ad esempio è molto difficile trovare foto private, cosa strana perché chiunque penserebbe che un direttore della fotografia sia tutto il tempo a farsi foto magari nella vita privata, invece no, questo non è vero. È un uomo, un grandissimo lavoratore, quindi tutte le foto di Tony che abbiamo trovato sono foto nel backstage dei film. Però per esempio c'è da dire che la rivista dell'American Society of Cinematographers, che è l'associazione americana dei direttori della fotografia, che fu fondata tra gli altri da Eugene Gaudio e di cui Tony è stato presidente per alcuni anni, questa associazione ha una rivista, un magazine che si chiama American Cinematographer, che è tuttora edito, anche in forma digitale, all'epoca chiaramente in forma digitale no, però appunto era una rivista un po' che raccontava anche Hollywood e c'erano delle rubriche un po' simili a quello che oggi è Dago Spia, quindi c'erano curiosità, c'era un po' di gossip anche sui vari direttori della fotografia e lì abbiamo trovato un po' di notizie anche sul carattere di Tony, sul fatto che lui comunque continuasse a parlare con questo fortissimo accento italiano, il modo in cui gesticolava, ovviamente non dico tutto altrimenti il documentario... Poi parte lo spoiler. Però per dire che anche l'aspetto umano è stato qualcosa che noi abbiamo cercato assolutamente di scoprire per la prima volta, perché questo invece non era conosciuto, e di raccontare nel nostro documentario attraverso anche un po' la voce dei discendenti. Abbiamo rintracciato la famiglia di Tony, con cui abbiamo lavorato tantissimo e che mi sento sicuramente anche a nome di Fabrizio di ringraziare tantissimo, perché sono stati di una disponibilità, devo dire, disarmante in queste due settimane di ripresa che abbiamo fatto a Los Angeles e quindi con la famiglia anche abbiamo provato a riscoprire questa figura. Comunque, ripeto, la figura di Tony Gaudio è ovviamente un artista, quindi si è voluto anche prendere in questo documentario non solo la parte artistica, quindi lavorativa, professionale, ma anche l'animo, l'animo appunto dell'artista. Avrei un'altra domanda per Fabrizio, una domanda un po' generale. Ci saranno dei nomi che parteciperanno all'interno del documentario come figure, come persone magari di spicco? Avremo dei nomi conosciuti? Guarda, sicuramente possiamo condividere senza poter togliere nulla a nessuno, ovviamente, perché abbiamo, Alessandro citava Patrick Keating, che è un docente dell'Università del Texas, abbiamo un altro docente dell'Università della California, che anche lui ha raccontato un po', qualcuno di voi sicuramente l'avrà visto il film Babylon che è nel cinema proprio in questi giorni, quindi ha raccontato anche un po' l'atmosfera, la trasformazione di Hollywood degli anni d'oro, quindi gli anni che ha vissuto anche Tony Gaudio, ma poi diciamo per il grande pubblico condividiamo questi due nomi che abbiamo proprio intervistato in questi giorni negli Stati Uniti, cioè uno è Richard Edlund, che quattro volte premio Oscar, ha collaborato in diversi film importanti e conosciutissimi, quali Ghostbuster, Star Wars, tantissima, Indiana Jones, quindi è sicuramente un profilo alto del cinema hollywoodiano internazionale, ma anche personalità un po' più vicina al nostro, territorialmente parlando, sebbene ormai americano, perché parlo di Mauro Fiore, un altro direttore della fotografia, un altro premio Oscar, è nato a Marzi, anche lui è emigrato negli Stati Uniti qualche decennio fa e che abbiamo incontrato lì a Los Angeles a casa sua, dove ha voluto condividere non solo le emozioni legate alla vittoria dell'Oscar, ma anche le emozioni, proprio andando a ricordare i primissimi giorni vissuti negli Stati Uniti, era allora un ragazzino e quindi come dire anche questo distacco che c'è spesso brusco con la terra di origine, che però poi in qualche modo lascia sempre delle emozioni forti anche a chi racconta poi effettivamente l'emigrazione. Mauro Fiore sicuramente è riuscito a trasmetterci un'emozione particolarmente forte, ci sono anche tutta una serie di altri nomi, non li vogliamo sicuramente svelare tutti, ma vi assicuriamo che il racconto di Toni Gaudio è fatto non solo da comuni mortali, quindi dalla famiglia di Toni che ha in qualche modo ereditato la sua memoria e che sta cercando di farla riemergere, ma anche da tanti addetti ai lavori che spesso dall'altra parte dell'oceano in maniera un po' più consapevole, ma questa figura sta ritornando anche qui in Italia ad emergere e che hanno voluto condividere questa grandiosità di Toni Gaudio sia da un punto di vista professionale, ma anche umano. Assolutamente Fabrizio, guarda allora quindi l'Oscar dimenticato, possiamo dire quando uscirà, quando potremo avere l'onore di poterlo vedere? L'abbiamo completato entro l'estate di quest'anno e puntiamo a una prima presentazione, ovviamente ce ne saranno diverse, proprio per i diversi territori coinvolti, quindi vogliamo presentarli in maniera più o meno parallela sia in Italia che negli Stati Uniti, presumibilmente nel mese di novembre perché ricorre un anniversario della nascita di Toni Gaudio, sono i 140 anni, vado a memoria, quindi vogliamo approfittare di questa ricorrenza, quindi nell'autunno dovrebbe essere presentato in anteprima, ma vi aggiorneremo sulla data esatta, ovviamente appena la sapremo. Noi attendiamo con grande voglia di vedere appunto cosa ne è emerso da questo duro lavoro che ci è stato, sono sicura che farà emergere il nome di una così importante figura, soprattutto per il territorio calabrese, ne abbiamo bisogno di avere una buona reputazione anche nel mondo, anche negli Stati Uniti. Io vi ringrazio Alessandro e Fabrizio, spero di rivederci prima dell'uscita del documentario. Io saluto tutti voi, da Calabria News 24 è tutto, grazie.